E' un po' qua che te le sei militante, sai che ti porti un'opportuna? E' quanta mila e cinque, dai! Wow! Un ITM in tutta la vita dell'Italia, ma facciamolo bene però eh! E' i gufi! Ciao! No scusa, caspita! Mi fai perdere il conto, stavo contando, 260 circa! Riconta! Non ti capisco sulla mano! 416 mila! Ve le prendo domani, domani! Le vuole tutte lui! Dio, io! Ho chiuso 378 mila! 264 mila! E quindi niente, sono contento che a fine del giorno ho demoralizzato per Gianluca che hanno scoppiato con Nodonna, Costa e Jack, ha perso BVB, Jack Jack contro KT, ma prima un altro cooler! Altri colpi incredibili! E' così è il gioco! Però vabbè, dai siamo passati al day 3 e domani riniziamo in 35, vediamo un po'... Vediamo una strotta, va una strotta Chris! Ci si prova! Spero, rimane fino a quando mi danno il figlietto per la Cina, così quella è pagata, assicurata! E abbiamo la strada di più! E quindi abbiamo chiuso decentemente, abbiamo avuto un colpo di culo oggi, quasi spiaciuto perché Geo ha giocato veramente un gran torneo e gli ho preso un colpo al 25%, però capita di averli anche a favore di tanto! Ci sono, credo in media, 215 mila e domani la mostra! Grazie!